pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa terza domenica del tempo di pasqua incontriamo e meditiamo sul meraviglioso testo che conclude l'episodio dei discepoli di emmaus gesù che si manifesta all'intera comunità nella prospettiva secondo luca è interessante perché i vangeli se ci fate caso non dicono come gesù sia risorto ma comunicano l'esperienza del risorto vissuta dalla prima comunità ma soprattutto trasmette a noi delle coordinate per continuare a vivere questa esperienza di gesù vivo e presente in mezzo a noi andiamo al testo i discepoli di emmaus ritornano dalla comunità riunita e raccontano quanto fosse loro accaduto lungo la via e come avessero riconosciuto gesù nello spezzare il pane allude chiaramente all'eucaristia dove gesù continua a rendersi presente continua a spezzarsi per noi a farsi cibo a donarsi a comunicarci la sua vita perché attingendo alla sua vita vivendo la sua parola possiamo diventare anche noi pane di vita per gli altri donandoci sulle orme del maestro mentre parlavano tra loro gesù si manifesta e si pone in mezzo gesù stette in mezzo e disse pace a voi che bello dove sta gesù in mezzo alla sua comunità alla chiesa è lì che si rende sempre presente specie quando la sua comunità è riunita a celebrare insieme in matteo ci ha anche detto dove due o più sono riuniti nel mio nome io sono lì in mezzo a loro che bello questo in mezzo sarebbe interessante scorrere questo termine nei vangeli vi dico soltanto due passi indicativi in luca 22 27 gesù dice io sto in mezzo a voi come colui che serve e in marco 9 36 mentre i discepoli discutevano tra loro su chi fosse il più grande prese un bambino e lo in mezzo a loro ecco gesù dove sta né in alto né davanti ma al centro e tutti sono attorno richiama ad una parità di relazione con lui e tra di loro tra i discepoli sta lì in mezzo nella relazione in mezzo ad un tessuto che pian piano si potrà chiamare comunità e lo sarà man mano che la comunità prenderà consapevolezza della presenza in mezzo ad essa di gesù risorto che continua a rendersi presente e a donare la sua vita la sua grazia gesù è il centro della chiesa e in lui l'unità diventa possibile lui rende possibile quell'unità nella diversità che è la chiesa ed è la missione della chiesa definita dal concilio vaticano secondo segno e strumento dell'intima unione con dio e dell'unità del genere umano e grazie al signore che diventa possibile l'unità la sfida meravigliosa dell'essere uno in lui come gesù ha pregato in giovanni 17 padre ti prego perché tutti siano una cosa sola come tu padre sei in me e io in te siano anch'essi in noi una cosa sola gesù dunque è il centro della chiesa ma lui vedete non si pone al centro dell'attenzione come spesso facciamo noi alle prese con i nostri vuoti affettivi alla smagnosa ricerca di considerazione affetto no lui sta al centro in un altro modo io sto in mezzo a voi come colui che serve potremmo dire che gesù è il centro propulsore dell'amore dell'amore che si dona più convergiamo verso questo centro più orientiamo a lui nostro cuore la nostra volontà più ci nutriamo del vangelo cercando di viverlo più veniamo decentrati da noi stessi liberati cioè dalla nostra tendenza a vivere per noi stessi diventando a nostra volta dono servi servi di dio a servizio della vita in tutte le sue forme sì più gesù è al centro più convergiamo a lui più prendono vita le nostre comunità più rifioriscono le nostre famiglie e nell'amore reciproco e nell'unità delle nostre comunità e nell'accogliere l'altro perché l'altro si senta realmente a casa che possono credere che il mondo può credere che realmente il signore è risorto e vivo ed è presente in mezzo a noi e in noi andiamo avanti i discepoli erano spaventati al vederlo pensavano fosse un fantasma il termine greco è lo sconvolgimento del mare durante la tempesta erano proprio scossi gesù allora per aiutarli ad uscire da questo sconvolgimento disse perché sorgono dubbi nel vostro cuore di per sé il termine greco il dialoghismos potremmo meglio tradurlo con perché sorgono pensieri vuoti ragionamenti vani sullo sfondo delle paure nel vostro cuore è qualcosa di importante vedete tante volte sorgono anche noi dei pensieri forti che nascono purtroppo sullo sfondo delle nostre paure e alimentano le angosce iniziamo allora a seguire questi pensieri inconsistenti che ci avvinghiano in noi stessi e ci rinchiudiamo nella paura e nella tristezza qual era il problema dei discepoli erano ancora intrisi in pensieri di morte hanno visto gesù morire finire nel sepolcro come possibile che risusciti è impossibile perché la morte più forte non è possibile che sia risuscitato addirittura con il corpo caso mai sarà sì e no un fantasma cioè la vittoria della morte continua a regnare nel loro cuore ecco i discepoli sono ancora rinchiusi nelle paure gesù dunque da voce alle loro paure e coinvolgendo tutti i loro sensi fa prendere loro consapevolezza che non è un fantasma uno spirito ma è lui in una condizione risuscitata con un corpo glorificato e dice loro guardatemi toccatemi datemi qualcosa da mangiare proprio perché i discepoli capiscano che gesù non è un personaggio del passato ma è una persona concreta vivo risorto che lì in mezzo a loro ed è lì in mezzo a loro a far loro il dono della pace pace a voi cristo è la presenza di dio e la manifestazione dell'amore risorto che vince la morte infonde pace ai cuori che sdogana dalla paura della morte che ci porta a vivere per noi stessi in questo stare con gesù in questo toccare gesù in questo ascoltare gesù potremmo dire che i discepoli passano dalla paura alla gioia incredula alla fede ma per arrivare alla fede per fondarsi meglio hanno bisogno che gesù apra loro le menti a comprendere le scritture credere in cristo non significa mandare la ragione a spasso o sentire pi sentimenti con i quali ci lasciamo portare a destra e a sinistra ma affidarsi a qualcuno e fidarsi di qualcuno e di ciò che questo qualcuno ci dice dunque anche la nostra intelligenza la nostra ragione si nutre e si nutre innanzitutto attingendo alle scritture poi formandosi attraverso catechesi letture spirituali e poi con la vita nella comunità credente attingendo i sacramenti e quant'altro dunque gesù apre la mente alle scritture e ciò che già aveva fatto con i discepoli di emmaus li aiuta a cogliere come tutta la sua vita sia stata guidata dalle scritture come la sua vita sia compimento delle scritture compresa la sua passione morte e qui potremmo dire che da una chiave di senso profondissima perché perché cosa libera i discepoli dalla schiavitù della paura della morte cosa libera il nostro cuore dalla paura di fare della nostra vita un dono e di fidarci fino in fondo di dio scoprire che il signore stesso è risorto proprio perché nel suo farsi uomo è stato fedele fino alla fine al padre ha donato per amore la sua vita noi attingendo a lui e lasciandoci guidare dalla scrittura e dal suo spirito in noi diventiamo capaci di fare altrettanto veniamo liberati da quella tendenza a vivere per noi stessi diventiamo capaci di fare della nostra vita un dono manifestandosi risorto mostrando le sue piaghe le sue mani sui piedi non solo vuol far capire che è davvero lui ma che quelle piaghe quelle ferite sono ora feritoie di luce cioè la risurrezione non è l'annullamento della storia precedente ma il compimento di ciò che si è vissuto anche di quelle ferite subite attraversate con amore offerte per amore che vengono trasfigurate in dio qui abbiamo qualcosa di meraviglioso che ci aiuta a rileggere tutta la nostra vita anche le sofferenze anche la morte stessa ci aiuta a leggere nella chiave del compimento ad esempio una sofferenza che attraverso alla fine della mia vita magari mi devasta nel corpo offerta al signore vissuta unitamente a lui non è rovina ma è compimento di una vita donata che non culmina nel nulla ma nell'incontro con il dio dell'amore cari fratelli e sorelle questo testo ci annuncia la bellezza dell'esperienza del risorto che continua essendo presente tra noi specie nella comunità della quale lui il centro e ci annuncia che davvero possiamo vivere la sua risurrezione nella nostra carne pur vivendo nella condizione terrena nella fragilità della nostra condizione umana nella fede già siamo risorti in cristo a lui crediamo e a lui apparteniamo allora tutta la nostra vita anche le ferite subite le piaghe le sofferenze attraversate i nostri dolori in dio saranno trasfigurati saranno gemme dell'eternità e già ora uniti a lui diventano guarigione per noi e per gli altri come diceva un autore spirituale diventiamo in un certo senso guaritori feriti e la luce della risurrezione che ci aiuta a fare delle nostre piaghe varchi di luce della luce risorta di cristo in noi che ci aiutano a farci prossimi agli altri e a toccare con la luce del suo amore della sua misericordia le ferite degli altri solo a questo punto concludendo ecco l'invio del signore invia i suoi discepoli che sono suoi testimoni ad annunciare la conversione per il perdono dei peccati che ti offerte in cristo una vita nuova una vita risorta l'invito dunque a lasciare il vecchio il peccato ciò che sa di egoismo ciò che sa di chiusura e aprirsi al nuovo alla vita al profumo della vita che l'amore che la vita vissuta in comunione con dio e con gli altri per essere testimoni di quest'amore divino che vince ogni male e che ci dà modo di vivere ogni cosa nella sua luce che il signore vi benedica cari fratelli e sorelle e buon cammino di risurrezione a tutti pace e bene